Un'invocazione al Signore perché ci insegni l'attenzione verso la redenzione. Il Papa l'ha levata nella messa mattutina a Casa Santa Marta, riflettendo sull'odierna prima lettura che, ricorda il Pontefice, racconta il momento nel quale il popolo di Israele è liberato dall'esilio. Il Signore, ha evidenziato Francesco, visitò il suo popolo e lo riportò a Gerusalemme. Papa Francesco ha incontrato oggi in Vaticano i membri delle due fondazioni elvetiche, sorte per offrire sostegno economico, materiale e tecnico alla Guardia Svizzera Pontificia. Occasione dell'udienza, l'inaugurazione ufficiale della nuova sede della centrale operativa alla cui realizzazione le fondazioni hanno generosamente contribuito. Nel Regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono chiamati a fare da loro parte e per tutti alla fine ci sarà il compenso che viene dalla giustizia divina, non umana, per nostra fortuna. Così il Papa all'Angelus Domenicale, in piazza San Pietro, commentando la parabola dei lavoratori chiamati a giornata, è raccontata da Gesù nel Vangelo di ieri. I vostri monasteri continuano ad essere spazi privilegiati dove trovare una pace vera e una felicità genuina che solo Dio, nostro sicuro rifugio, può donare. È quanto affermato da Papa Francesco sabato mattina incontrando i partecipanti al capitolo generale dell'Ordine dei Cistercensi della Stretta Osservanza, che si caratterizzano per una grande sobrietà di vita. Il cristiano è un uomo, una donna in tensione verso la consolazione che dà l'incontro con Dio, che porta alla redenzione. Chiediamo al Signore la grazia di saper aspettare questa consolazione nella speranza, di riconoscerla quando viene e di conservarla per arrivare ad essere uomini e donne in pace. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando la prima lettura proposta dalla liturgia che narra della visita del Signore per aiutare il suo popolo a tornare a Gerusalemme dall'esilio babilonese. Il cristiano che non è in tensione, che non spera nell'attesa di questa consolazione, ha sottolineato il pontefice, è un cristiano chiuso, messo nel magazzino della vita. La consolazione del Signore tocca dentro e ti muove e ti dà un aumento di carità, di fede, di speranza e anche ti porta a piangere per i propri peccati e anche quando guardiamo Gesù, la passione di Gesù, piangere con Gesù. Anche ti eleva l'anima alle cose del cielo, alle cose di Dio e anche quieta l'anima nella pace del Signore. Questa è la vera consolazione. Non è un divertimento, un divertimento non è una cosa cattiva quando buono. Siamo umani, dobbiamo averne. Ma la consolazione ti prende. E proprio la presenza di Dio si sente. E riconoscere, questo è il Signore. Papa Francesco ha incontrato oggi in Vaticano i membri delle due fondazioni elvetiche sorte per offrire sostegno economico, materiale e tecnico alla Guardia Svizzera Pontificia. Occasione dell'udienza, l'inaugurazione ufficiale della nuova sede della centrale operativa alla cui realizzazione le fondazioni hanno generosamente contribuito. Il Papa ha espresso riconoscenza per la loro collaborazione nei confronti del corpo della Guardia Svizzera, del suo comando e con le competenti autorità vaticane. La vostra opera, ha proseguito Francesco, testimonia concretamente gli ideali evangelici e nel tessuto sociale svizzero è esempio di fraternità e di condivisione. Per il cristiano, ha poi ricordato, l'amore al prossimo si fonda sull'amore verso Dio, così che attraverso la sua dedizione gli altri possono sperimentare la tenerezza del padre. Per dare amore ai fratelli, ha sottolineato il Papa, occorre infatti attingerlo dalla fornace della carità divina, mediante la preghiera, l'ascolto della parola di Dio e il nutrimento della santa Eucarestia. Con questi riferimenti spirituali è possibile operare nella logica della gratuità e del servizio. Ringraziando ancora l'opera delle due fondazioni con i loro Presidenti, Francesco ha colto l'occasione per ribadire l'apprezzamento per la presenza discreta, professionale e generosa di tanti giovani svizzeri che decidono di spendere alcuni anni della loro vita al servizio della Chiesa e della Santa Sede, presenza tanto utile per il buon andamento delle attività del Vaticano. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza 35 vescovi della Conferenza Episcopale dell'Equador in visita ad limina apostolorum. Il Papa, lo ricordiamo, visitò il Paese nell'estate del 2015. La Conferenza Episcopale Ecuadoriana si è riunita la prima volta nel 1939. L'Assemblea Plenaria si riunisce due volte all'anno. Ad aprile è stato nominato nuovo presidente Eugenio Arelliano, vicario apostolico di Esmeraldas, padre comboniano che resta in carica per tre anni. I problemi dell'Equador sono simili a quelli di tutti i paesi andini, con sfruttamento minerario, scarsa attenzione all'agricoltura, traffico di droga, corruzione e miseria. Particolare la pastorale afroamericana per cui i vescovi denunciano le minacce all'esistenza fisica, culturale e spirituale, all'identità, alla diversità nei territori e nei progetti di vita che soffre il popolo afro in tutto il continente a causa della globalizzazione economica e culturale che mette in pericolo la nostra stessa esistenza in quanto popolo differente. Nel regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono chiamati a fare la loro parte e per tutti alla fine ci sarà il compenso che viene dalla giustizia divina, non umana, per nostra fortuna. Così il Papa all'Angelus Domenicale in piazza San Pietro, commentando la parabola dei lavoratori chiamati a giornata, è raccontata da Gesù nel Vangelo della venticinquesima domenica del tempo ordinario. Due sono gli aspetti del regno di Dio, ha spiegato ancora Papa Francesco che Gesù vuole comunicare. Il primo, che Dio vuole chiamare tutti a lavorare per il suo regno. Il secondo, che alla fine vuole dare a tutti la stessa ricompensa, cioè la salvezza, la vita eterna. Da qui la provocazione di quell'apparente ingiustizia che rende invidiosi i lavoratori chiamati ad inizio giornata e pagati tanto quanto quelli a servizio per poche ore. Perché qui Gesù non vuole parlare del problema del lavoro o del giusto salario, ma vuole parlare del regno di Dio. E il messaggio è questo, nel regno di Dio non ci sono disoccupati, tutti sono chiamati a fare la loro parte. E per tutti alla fine ci sarà il compenso che viene dalla giustizia divina, non umana, per nostra fortuna. Cioè la salvezza che Gesù Cristo ci ha acquistato con la sua morte e risurrezione. Una salvezza che non è meritata, ma donata. La salvezza è gratuita, per cui gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. E se la logica umana è spesso piegata all'egoismo e al proprio tornaconto, citando Esaia, il Papa ha esortato a lasciarsi stupire e affascinare dai pensieri e dalle vie di Dio che non sono i nostri pensieri e non sono le nostre vie. Prima di concludere con l'affidamento alla Vergine Maria, perché interceda affinché si accolga nella nostra vita la logica dell'amore che ci libera dalla presunzione di meritare la ricompensa di Dio e dal giudizio negativo sugli altri, Papa Francesco si è soffermato sullo sguardo pieno di attenzione e benevolenza del padrone. È uno sguardo pieno di attenzione, di benevolenza. È uno sguardo che chiama, che invita ad alzarsi, a mettersi in cammino, perché vuole la vita per ognuno di noi. Vuole una vita piena, impegnata, salvata dal vuoto e dall'inerzia. Dio, che non esclude nessuno e vuole che ciascuno raggiunga la sua pienezza. Questo è l'amore del nostro Dio, del nostro Dio che è Padre. Dopo l'Angelus, il pensiero del Papa è andato al sacerdote missionario in Guatemala, Stanley Francis Rotter, ucciso nel 1981 a soli 46 anni in Odium Fidei e beatificato per la sua opera evangelizzatrice e di promozione umana dei più poveri. In chiusura, un particolare saluto, il Papa lo ha rivolto non solo a tutti i pellegrini, ma anche al coro della missione cattolica italiana di Berna, alla comunità romana di comunione e liberazione e ai fedeli di Villa Dossola, offanengo e nola. I vostri monasteri continuano ad essere spazi privilegiati dove trovare una pace vera e una felicità genuina che solo Dio, nostro sicuro rifugio, può donare. È quanto affermato da Papa Francesco sabato mattina, incontrando i partecipanti al capitolo generale dell'Ordine dei Cistercensi della stretta osservanza, che si caratterizzano per una grande sobrietà di vita. Questo elemento di semplicità spirituale ed esistenziale, ha sottolineato il Papa, conserva tutto il suo valore di testimonianza nell'odierno contesto culturale che troppo spesso induce al desiderio di beni effimeri e di illusori paradisi artificiali. È multiforme il ritratto del mondo cistercense delineato dal Santo Padre, chiostri silenziosi da cui sale incessante la preghiera per la Chiesa e per il mondo. Una vita contemplativa, ha aggiunto il Pontefice, caratterizzata dalla preghiera assidua. Esortando a dare grande importanza alla meditazione della parola di Dio, specialmente alla lezione divina, il Papa ha ricordato anche che essere contemplativi richiede un cammino fedele e perseverante. Dio si manifesta, affermato ancora il Papa, rivolgendosi ai cistercensi nella vostra solitudine personale. Siete soli e separati dal mondo per inoltrarvi nel sentiero dell'intimità divina. Al tempo stesso siete chiamati a far conoscere e condividere questa esperienza spirituale con altri fratelli e sorelle in un equilibrio costante tra contemplazione personale, unione alla liturgia della Chiesa e accoglienza di quanti cercano momenti di silenzio per essere introdotti nell'esperienza del vivere con Dio. Papa Francesco ha ricevuto sabato mattina in Vaticano il nuovo ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani in occasione della presentazione delle lettere credenziali. Il diplomatico è nato a Cappannori nel 1957, è sposato ed è padre di quattro figli. Laureato in scienze politiche con indirizzo internazionale presso l'Università Cesare Alfieri di Firenze, ha seguito successivamente corsi di economia internazionale all'Università di Harvard e di giornalismo internazionale alla Columbia University di New York. Parla anche francese, inglese, olandese, russo, spagnolo e tedesco. Fra i numerosi suoi incarichi ricordiamo gli ultimi in ordine di tempo. Dal 2008 al 2012 capo della rappresentanza permanente presso l'ONU a Roma con un rango di ambasciatore. Ambasciatore a Madrid dal 2013 al 2016 e ad Andorra dal 2015 al 2016. Ambasciatore alle dirette dipendenze del segretario generale del Ministero degli Affari Esteri dal marzo 2016 all'agosto 2016 e direttore generale per la cooperazione allo sviluppo dall'agosto del 2016. Il Santo Padre nel pomeriggio di venerdì scorso si è recato per una visita a sorpresa alla Fondazione Santa Lucia, un centro di eccellenza molto conosciuto a Roma specializzato nella neuro-riabilitazione di pazienti con deficit di movimento e cognitivi dove vengono trattate patologie derivanti da ictus, lesioni midollari, Parkinson e sclerosi multipla. Il Papa si legge in un comunicato della sala stampa della Santa Sede continua così l'esperienza dei venerdì della misericordia, gesti di vicinanza e di sostegno dedicati ai meno abbienti e ai meno fortunati che hanno caratterizzato il giubileo della misericordia. Intorno alle ore 16 Papa Francesco ha attraversato i cancelli di Via Arde a Tina 306 ed è stato accolto con gioia dalle persone che in quel momento si trovavano nel parcheggio del complesso degli edifici ospedalieri. Subito dopo il Santo Padre è stato raggiunto dalla Presidente dell'Associazione e dal Direttore Generale, oltre che dallo staff che si univa al piccolo gruppo in visita al centro. Particolarmente emozionante è stata la visita del Papa al reparto di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche. In seguito Papa Francesco ha fatto visita al reparto nel quale sono ospitati pazienti tra i 15 e i 25 anni, tetraplegici e paraplegici, alcuni dei quali a seguito di incidenti stradali e alla palestra dove le persone anziane svolgono attività per la riabilitazione motoria. Prima pagina dell'Osservatore romano con la data del 25-26 settembre 2017. In Germania svanisce l'ipotesi della Grande Coalizione, mentre i populisti della FD conquistano oltre 90 seggi. Merkel più debole ma rimane cancelliere. All'Angelus la parabola dei lavoratori nella vigna. Tutti sono chiamati. Cacciabombardieri al confine con la Corea del Nord. Il Pentagono mostra i muscoli. Un'inchiesta della P sui caschi blu colpevoli di stupro, violenze impunite. La visita ad limina dei Vescovi dell'Equador.